crock pot con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9 su 10 lo valutiamo come la scelta migliore viene molto apprezzato per queste caratteristiche facile da pulire facile da usare comodo sapore se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video questo prodotto realizzato da clarstein ha conquistato una votazione di 9 su 10 punti totali risulta essere il migliore di questa selezione questi sono i suoi punti di forza ottimo rapporto qualità prezzo facile da usare facile da pulire sapore se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione di questo prodotto di george forman è di 9 voti su 10 al momento risulta essere il più regalato i punti di forza sono facile da pulire comodo sapore ottimo rapporto qualità prezzo facile da usare in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato grazie a tutti